Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, ben ritrovati, buon mercoledì, vigilia di Juventus-Monza, partita di Coppa Italia che, ripeto, diventa estremamente, estremamente importante, sempre per mio giudizio, per quanto mi riguarda, per quella che è la stagione della Juventus, per quella che deve essere la naturale evoluzione del progetto Juventus, ovviamente focalizzandoci sulla stagione in essere quindi 2022-2023, perché sappiamo tutti, sappiamo tutti, ci siamo già parlati chiaramente guardandoci nelle palle degli occhi, abbiamo ben chiaro in mente quello che sarà, e cioè una stagione dove difficilmente si lotterà per vincere lo scudetto, una stagione dove molto difficilmente riusciremo a vincere l'Europa League, ma ovviamente la speranza è sempre l'ultima a morire, è molto più probabile vincere l'Europa League, per quanto mi riguarda, piuttosto che la Serie A, perché ci sono dei margini in Serie A che ci siamo giocati nel corso della stagione, ci siamo giocati anche nell'ultima partita in Serie A, mentre in Europa League abbiamo ancora tutto da giocare, quindi chissà che non possa essere quello il trionfo stagionale, ma la Coppa Italia sembra un po' la competizione più probabile per la Juventus, anche guardando un attimo quello che è il tabellone, perché ieri sera si è giocato Napoli contro Cremonese, non ho visto la partita, però mi sono andato a recuperare un po' di dati, intanto era la prima di Ballardini sulla panchina della Cremonese dopo l'esonero di Alvini qualche giorno fa, quindi sappiamo bene che solitamente quando c'è un esonero c'è una reazione nervosa, uno shock improvviso che poi può continuare nel tempo oppure fermarsi, che è un po' anche quello che è accaduto proprio al Monza con Palladino, che va a vincere la prima partita in Serie A proprio contro la Juventus, quando abbiamo giocato la partita d'andata di campionato, dove addirittura abbiamo perso per 1-0, ed è un po' quello che probabilmente sognava la Salernitana, anche se si sta leggendo che in realtà il ritorno di Nicola a 48 ore dall'esonero è sempre più probabile, sono storie che nel calcio veramente lasciano il tempo che trovano, non so che altro dire, sono situazioni un po' particolari, sapranno loro quello che fanno, però è ovviamente di fronte a certe notizie ti viene il dubbio e ti chiedi ma sono professionisti o sono presi dalla strada, perché sono veramente opzioni un po' così, ci penseranno i tifosi della Salernitana, tra l'altro una delle partite che abbiamo in programma a breve, sicuramente giocare in trasferta a Salerno sarà un'altra partita molto difficile per questa Juve, molto molto complicata, una partita che speriamo di poterci portare a casa anche perché le prossime partite sono davvero quelle che secondo me ti faranno capire se la Juventus avrà assorbito oppure no la batosta di Napoli, dicevo oltre al cambio in panchina per la Cremonese, un Napoli comunque rimaneggiato nei titolari con l'obbligo di inserire ovviamente i giocatori più in forma, più forti, nella ripresa per cercare di portarla a casa e poi quel palo di Simeone che nega al Napoli la vittoria immediata, si va ai calci di rigore, io credo che non sia nemmeno un caso che l'errore venga da uno come Lobotka, probabilmente un Lobotka titolare non avrebbe sbagliato quel calcio di rigore o magari sì, però la mia lettura è la seguente perché solitamente quando prepari una partita e sai di essere titolare e prepari una partita e sai di non essere titolare sono due preparazioni psicologiche differenti, quindi i calciatori entrano con un mood diverso ed è anche per questo secondo me che la partita di Napoli di ieri sera deve darci un ulteriore insegnamento e cioè cercare di completare la sfida entro i tempi regolamentari per non rischiare appunto una figura tipo Napoli-Milani in Coppa Italia che sono comunque due squadre che in campionato vanno ad alti ritmi e ad alti livelli, però in Coppa Italia sono uscite contro formazioni di minore impatto come Torino e Cremonese e quella parte della classifica della Coppa Italia del tabellone recita appunto Roma-Fiorentina, Torino e Cremonese, una di queste qua andrà in finale di Coppa Italia, noi dalla nostra parte, ovviamente sempre immaginando una Juventus che vince questa sera e passa al turno contro il Monza, ci sono ancora Inter, Lazio, quindi ci sono squadre abbastanza complicate e potrebbe anche magari saltar fuori qualcosa di simile all'anno scorso dove Juventus e Fiorentina si affrontavano nella semifinale per poi andare in finale contro l'Inter che sa che quest'anno non possa essere magari il contrario, quindi Juventus e Inter che si affrontano in semifinale per poi trovare la Fiorentina in finale, quindi una sorta di parallelismo con quella che è stata la Coppa Italia dell'anno scorso. E invece oggi non ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri alla vigilia per un motivo, c'è l'assemblea degli azionisti, in questo momento si sta svolgendo e ovviamente stanno salutando Nedve, Danielli, Arrivabene, tutti i dimissionari, la parte di CDA che si è dimessa a fine novembre scorso per far spazio ovviamente ai nuovi dirigenti della Juventus che domani affronteranno la prima vera partita del nuovo ciclo juventino che in realtà è già iniziato, ne abbiamo parlato anche nel video di ieri, il comunicato che è stato rilasciato a Report è già un indizio di come la Juventus sta iniziando a muoversi rispetto al passato e cioè in questo momento difficilmente te le faccio passare, se in tanti anni precedenti te le avevo fatte passare adesso difficilmente te le faccio passare. Ci sono tantissime citazioni di Agnelli, potete comunque recuperarvi l'assemblea scritta oppure anche video, ma c'è un passaggio in particolare secondo me che è molto interessante e che voglio leggervi, rilasciato anche dal Twitter ufficiale della Juventus, quindi sappiamo che questa è stata una frase assolutamente detta da Agnelli è della seguente i risultati sportivi, la creazione della Juventus Women e i loro risultati next gen che sta portando talenti in prima squadra a mio giudizio possiamo ambire nel giro di pochi anni ad avere almeno il 50% della nostra prima squadra proveniente dal settore giovanile. Allora questa è una frase importante ed è una frase forte è anche una frase che racchiude un po' quello che è stata l'epoca di Andrea Agnelli che io lo torno a dire, io faccio fatica a dire che nel complesso la presidenza Agnelli sia stata negativa per me la presidenza Agnelli nel complesso è stata super positiva perché oltre appunto la creazione di una seconda squadra la creazione di una squadra femminile alla costruzione dello stadio che non è nominato in questo tweet ma è una cosa che per tanti anni è stata una sorta di fior all'occhiello della Juventus e si è detto per tanti anni finché queste squadre dietro la Juve non andranno a farsi almeno uno stadio di proprietà difficilmente la raggiungeranno Juventus si è un po' suicidata nel giro di questi anni ma è sempre stata l'avanguardia sempre un passo oltre quegli altri sempre perché possiamo anche immaginarci oggi una squadra di Serie A che va a costruirsi uno stadio di proprietà però sarà comunque dietro anche dal punto di vista della next gen di una seconda squadra quindi Juventus ha già fatto il passo passo il là, passo oltre ed è per quello che secondo me è ancora più brutto vedere che comunque Juventus da qualche anno a questa parte dal punto di vista di prima squadra è molto titubante ma il discorso relativo alla next gen e al fatto che ci sono diversi giocatori in prima squadra secondo me è correttissimo sottolineare è una cosa super positiva e anche leggere che Cherubini potrebbe lasciare la Juventus a giugno Allegri e Cherubini sulla graticola su Allegri io direi che abbiamo speso quante più parole possibili su Cherubini se ne parla troppo poco troppo poco perché per me Cherubini è una figura super determinante super determinante anche quando c'è stata la conferenza stampa di tra virgolette presentazioni di Miretti Fagioli e Sule che sono giocatori di prima squadra ma provenga dalla next gen Cherubini ti ha fatto capire che era stato lui in prima persona volere questo progetto a curare questo progetto a dedicare energia tempo a questo progetto quindi io io so Cherubino veramente poche cose da dire veramente poche anche nelle intercettazioni che sono venute fuori questa volontà di lasciare da parte la Juventus del passato la gestione del passato legata alle plus valenze che legale non legale questo vedremo il 20 quindi tra due giorni si deciderà se riaprire il processo plus valenze c'è già stato un grado di giudizio Juventus è stata assolta non è questo il punto però la plus valenza il cortocircuito la plus valenza ti ha portato ad indebolirti e indebolirti intendo proprio prima squadra al bello proprio di squadra se prima potevamo vantare i Wayne Ronaldo e Douglas Costa e i Pjanic e i giocatori migliori della Serie A oggi non è più così e credo che anche un grado di ragionamento possa essere immaginato anzi immaginatevi pensate agli ultimi pensate agli ultimi campionati partendo da quello di Sarri chi vince la Juve quello dopo chi vince l'Inter quello dopo chi vince il Milan oggi chi probabilmente vincerà il Napoli vuol dire che negli ultimi quattro anni la Serie A potrebbe avere quattro vincitrici diverse e differenti qualcosa di inimmaginabile davvero inimmaginabile ancora nel periodo d'oro in cui la Juventus vinceva è per quello che vi dicono nel complesso secondo me la presenza Agnelli è stata super positiva ma negli ultimi anni da un po' che continuiamo a battere su questo chiodo abbiamo assistito a degli orrori a delle bruttezze delle male gestioni terrificanti terrificanti quindi credo che una boccata una ventata d'aria fresca sia necessaria al di là del discorso delle si sono dimessi per XYZ l'abbiamo generalizzato io in questo momento una Juventus che inizia a ragionare anche in maniera differente perché quello che dovevamo fare prima l'abbiamo fatto adesso c'è un problema e cioè che abbiamo tante cose in cui siamo avanti agli altri anche tanto potere probabilmente a livello economico perché Juventus comunque si ha dei problemi a livello economico in questo momento stiamo dicendo difficilmente riusciremo a fare un mercato di un certo tipo difficilmente riusciremo a prendere un altro allenatore difficilmente questo ingaggio questo rinnovo questo giocatore sì ma dall'altra parte dall'altra parte il calcio moderno soprattutto in Italia dove ci sono meno soldi te lo sta dicendo come si vince come si fa qual è il modo per il modo per è investire sui talenti del tuo prodotto del tuo settore giovanile e se Agnelli arriva a dire il 50% della prima squadra nel giro dei pochi anni entro il 2025 immagino che è un po' la deadline che si è data a Juventus il nuovo progetto parte nel 2022 e deve arrivare al 2025 con l'obiettivo di una squadra che mantiene competitività in ambito sportivo ma cerca di autofinanziarsi anche grazie al settore giovanile allora mi viene da dire ci stiamo davvero andando in quella direzione la risposta è sì e no per me perché secondo me siamo talmente avanti davvero avanti anche con l'obiettivo di di Juventus di rinnovare determinati talenti di prendere altri talenti che in questo momento sono passati dalla primavera alcuni come il difensore che abbiamo visto nelle amichevoli questo inverno di cui non mi viene il nome è già passato in next gen quando l'idea era l'opposta quindi si sta cercando di creare valore sulle Juventus un pelo più basse ok non la prima squadra però secondo me poi alla prima squadra gli manca sempre il centesimo per fare l'euro e l'ho già ribadito tante volte ripetuto tante volte perché Fagioli non mi gioca a Napoli perché Fagioli non mi gioca a Napoli perché non me ne gioca neanche uno dei ragazzi dei prodotti del settore giovanile nemmeno uno mi gioca a Napoli paura e allora quella paura dobbiamo mettercela via dobbiamo mettercela via perché? perché te lo dice il presidente te lo dice il presidente di Missionario ma te lo sta dicendo anche nell'ultimo giorno da presidente della Juventus nell'ultima sembrerà l'ultima volta che potrà parlare il presidente della Juventus te lo sta dicendo noi abbiamo fatto questo percorso siamo arrivati qui e l'obiettivo è quello lì sì ma l'obiettivo non può essere quello lì con 50% dipende come lo intendiamo 50% vuol dire 11 titolari non del settore giovanile 11 titolari del settore giovanile abbiamo sempre la presunzione di pensare che quelli che vengono da fuori sono più forti di quelli che abbiamo dentro perché è più faticoso valorizzarli perché è più lungo valorizzarli io ora vi farò un esempio perché io leggo tante critiche a De Ketelare in questo momento e credo che siano anche giuste ma dall'altra parte secondo me sarà un altro di quei giocatori che farà richiedere tante persone un po' come è stato Tonali o un po' come è stato Raspadori perché io mi ricordo questa estate ragazzi me lo ricordo adesso Raspadori in questo momento sta giocando un po' meno nel Napoli ma credo che l'impatto di Raspadori sia stato ottimo su quello che è in generale il Napoli ma Raspadori si diceva che l'avventus non potesse fare nemmeno panchina noi ci stiamo troppo abituando solo al nome ma il nome va in fase calante se no allora io ti rinnovo Quadrado anche quest'anno io ti rinnovo Alexandro anche quest'anno Adi Maria lo imploro per rimanere Paredes cento volte piuttosto che Rovella ma quante volte quest'estate ci siamo stati qui a dire ma davvero ci serve Paredes non possiamo provare Rovella Locatelli è il titolare Rovella non lo possiamo provare dato che Locatelli comunque è adattato non ci sarà una possibilità dobbiamo per forza spendere quei 7 milioni all'anno da dare a Paredes più non so quanti di prestito più un eventuale riscatto piuttosto che cercare di valorizzare un ragazzo che nel precampionato comunque aveva fatto bene sono queste le cose che un po' mi fanno arrabbiare perché io sento la Juve parlare e vantarsi e credo anche giustamente perché secondo me è giusto che la Juve si vanti in questo momento di quello che ha fatto di quello che ha costruito e ovviamente bisogna anche ricordarsi le cose negative perché bisogna ricordarsene però la Juventus ha fatto tante cose buone però queste cose buone vengono poi assorbite mangiate masticate rigurgitate sputate atteggiamenti che avevano completamente in contrapposizione rispetto a quello che si vuol fare ora quest'anno probabilmente c'era l'idea di migliorare subito la squadra boom un botto provarci quest'anno se va male poi cambiamo però allora vi dico va bene l'hai pensata così poteva andare bene poteva andare male secondo me non era il modo di ragionare già quest'anno un paio di prospetti un paio di profili in quella direzione tipo Pogba di Maria anch'io li avrei presi ma non sarei andato a caricare il mercato solo con profili di quel tipo solo giocatori intorno a Trentina o con problemi fisici per pagarli meno ci deve essere siccome una buona amalgama allora è inutile continuare a dire nel giro di tot anni dobbiamo arrivare iniziamo già adesso dato che si dice spesso e volentieri che alla Juventus non esistano anni di transizione e secondo me è giustissimo perché stasera la Juventus devi provare a vincere sempre però capitano anche quegli anni come magari adesso in cui secondo me non stai costruendo niente perché dal punto di vista proprio prospettico stai costruendo poco non sai nemmeno chi allenerà la Juve l'anno prossimo non lo sai perché il presidente che aveva scelto l'allenatore non c'è più l'allenatore stesso che è molto legato al presidente aveva detto oh sai cosa non me la sento nemmeno di continuare quindi e poi gli ha detto no ti prego rimani capite che in questo momento c'è molto caos e continuerò a dirvelo sempre chiedere l'esonero di Allegri adesso per me la cosa più illogica che c'è e ve lo dice uno che è completamente insoddisfatto da quello che sta facendo Allegri con la Juventus ma adesso per tutto il casino che c'è nella Juve non ha senso ma allo stesso tempo non stiamo nemmeno costruendo per quello che vi dico allora in una stagione del genere non è di transizione non è nemmeno una stagione di vincita non è nemmeno una stagione di trionfale ma allora quell'inseguire i talenti che nel giro di tot anni dovranno comporre la prima squadra di Juve iniziamo già adesso perché mi gioca McKennie invece che Fagioli perché non possiamo fare in modo di creare anche solo un sistema di gioco che va a valorizzare il modo di giocare di Federico Chiesa che non è un talento del settore giovanile ma è un trascinatore della Juve che non mi può fare il terzi non mi può fare la fase difensiva questo è quello che mi deve fare la differenza là davanti là davanti allora perché invece che Paredes non facciano giocare i Miretti ovvio stasera domani sera in Coppa Italia a me piacerebbe vederlo Paredes perché è stato un fantasma fino ad adesso allora almeno in Coppa Italia mi piacerebbe vederlo ma tante volte gli abbiamo preferito dei giocatori ai giovani mi hanno preferito dei giocatori che camminano vanno ai due all'ora non sono impattanti hanno dei costi alti non hanno mercato cioè sono quelle cose che faccio un po' fatica a capire allora quel progetto quel procedimento quell'idea anticipiamola perché sennò sono stagioni di transizione in cui non si salva niente fuori discorso che facevo anche sul canale di Davom quindi a me fa piacere a me fa piacere a livelli allucinanti che Juventus sia avanti rispetto ad altre squadre però poi bisogna dimostrarlo anche dentro il campo con delle scelte che devono essere più coraggiose rispetto a quelle del passato perché non siamo più quelle Juventus di una volta che se anche non mi formi il giovane ma sai cosa me ne frega ti stacco l'assegno da 50 milioni di euro ti vengo a prendere il giocatore che mi serve lo inserisco in prima squadra e io ho già messo il buco fa lo stesso chi se ne frega faccio il rinnovo faccio il rinnovo contratto alto quella era una strategia che ha funzionato perché? perché c'erano questi adesso ci sono meno di quelli e non la puoi più fare non la puoi più attuare non puoi più ragionare in quel modo non puoi più nemmeno fare le scelte in base al nome all'interno di un ballottaggio in campo no devi fare le scelte in base alla meritocassia alla lungimiranza perché questo è l'obiettivo che ha dichiarato Juventus però se Juventus dichiara una cosa e poi compra il giocatore che vale la direzione opposta o nella partita d'impatto di cartello in cui puoi riprire il campionato fa ragionamento inverso allora la domanda a me sorge spontanea predichiamo bene e razioniamo male?